Siamo con Gino Noli, bomber di questa volta, tornati in promozione. Gino, ovviamente è arrivato in forno e tu subito il gol dell'ex, per farti apprezzare anche dai rivali. Eh sì, come sempre l'ex di solito ha sempre il gol, quindi è andata bene. Purtroppo potremmo andare meglio al secondo tempo, ma è la prima, dai. Ma cosa è successo al secondo tempo? Eravate convinti di aver già vinto? No, probabilmente abbiamo un po' calato fisicamente, anche la preparazione è molto pesante, quindi c'è stato. La preparazione è pesante, ma tu come Dybala entri subito in forno. Paragoni, dai, paragononi. Adesso spiega quel tentativo di pallonetto che hai fatto, alcuni dicevano stavi cossando. No, non siamo zappo a costa, stavo calciando in porta. E non è facile, tra l'altro, fare queste cose sulla terra battuta di Avode, insomma, a forni le facevi, ma il campo era migliore. Ci provo sempre, soprattutto da sinistra, che mi viene un po' meglio, visto che sono Mancino, però ho visto questa palla a rimbalzare, peccato per l'incruccio, avrò scoppiato il pallone. Dopo tanti gol in prima categoria, è arrivato questo passaggio meritato. Per te cosa significa essere in questa categoria Avode? Ma è una grande soddisfazione. La promozione mancava da 26 anni, probabilmente non è nemmeno nato il 91. Nella culla non ti ricordo le esultanze varie, però dai, cercheremo di tenerci stretta a questa categoria, perché secondo me il paese di Avode merita questi palcoscenici. Anche oggi c'era moltissima gente in tribuna, quindi ci vogliono bene, cercheremo di dare il massimo tutte le gare. Abbiamo visto che ci sono anche dei nuovi Gino che stanno crescendo, insomma, alcuni ragazzi interessanti anche della zona che possono essere utili nel campionato. Sì, sì, ci sono molti giovani. Questi fuori quota aiutano a crescere. Abbiamo visto anche L'Angio è fuori quota, 98, Antonio Currelli 98. Non sono più fuori quota, sono fuori quota ma non sono fuori quota. E si vede che giocano molto anche alla Playstation, abbiamo visto fare alcuni numeri molto belli. Sì, sì, ce li hanno, quindi è giusto anche che li facciano al momento giusto. Il tuo obiettivo stagionale? Ma non mi pongo obiettivi. Quel che viene prendiamo, sempre lavorando con sacrificio. L'obiettivo naturalmente è la salvezza di squadra, non si pensa singolarmente. Poi, se arrivano molti gol sono felici, è lo stesso. Però l'obiettivo primario è sicuramente la salvezza. Benissimo, noi ti ringraziamo Gino, grandi complimenti per la partita di oggi. Si spenta la luce e noi ce la rendiamo a casa. Ciao! Ciao!